ciao ragazzi e ciao ragazze bentornati in questo nuovo video allora mi vedete in realtà struccata ma vi faccio vedere come ho realizzato la mia skin care minimalista utilizzando soli tre prodotti cioè l'intensive spray un gel di aloe e una crema rigenerante questi tre prodotti fanno parte di della linea all'aloe dell'azienda vegas cosmetics sono tre prodotti che io sto utilizzando in tantissime modalità diverse quindi se siete curiosi di vedere una skin care alternativa molto basica quasi un po scarna però molto efficace vi rimando alla visione del video vi ricordo che sono presente su instagram come recensioni bellezza ma vi lascio in descrizione il link del diciamo del del mio profilo che se vi piacciono i contenuti di questo canale vi chiedo di supportarmi con un like attivando la campanella per non perdere le prossime uscite condividendo il mio video insomma facendomi un po conoscere mi aiuterete sicuramente appunto a crescere perché è anche il mio obiettivo quello di crescere ma anche di ampliare la nostra community che ecco ci tengo a ringraziare che sono arrivata a 460 iscritti che da sola proprio sola sola senza l'aiuto di nessuno sono abbastanza soddisfatta contenta vi ringrazio di tutti i bei commenti che mi lasciate siete tutti molto carini e insomma fa piacere che abbiate fiducia in me che insomma vi piacciono i video insomma sono sono contenta che possiate di trovare una persona con cui appunto dialogare magari di argomenti magari un po fuori delle solite diciamo tematiche beauty quindi va bene insomma io sono molto contenta di come sta andando il canale spero insomma che anche a voi piacciono i miei video e niente ci vi lascio il video alla skin care noi ci vediamo presto ciao buongiorno ragazzi buongiorno ragazze allora oggi facciamo quella che io ho definito ultimamente la skin care minimalista perché mi sto approcciando un nuovo modo di diciamo di fare la skin care vediamo un po se mi vedete bene fa che la luce un po ok forse sì mi dovreste vedere bene sono più illuminata da questa parte perché c'è la finestra e dicevo mi sto approcciando un nuovo modo di fare la skin care perché in questo periodo dell'anno è un periodo in cui non amo molto diciamo sovraccaricare la pelle di prodotti e quindi ho ridotto la skin care all'osso di fatto la skin care me lo dovevo preparare prima la skin care in realtà è composta da soli tre prodotti quindi il primo prodotto è questo che si chiama intensive spray ed è un prodotto in realtà diciamo che io lo utilizzo in maniera impropria come se fosse un tonico ma in realtà è un prodotto veramente dalle molteplici dei molteplici utilizzi allora intanto vi dico che questi sono prodotti della lì dell'azienda vegas cosmetics quindi io sto vi sto parlando di questa azienda qui oggi che un'azienda portoghese e tedesca che utilizza prevalentemente prodotti a base di aloe biologica e infatti il primo ingrediente di questo di questa di questi intensi spray è proprio l'aloe ora vi lascerò poi un uno screenshot con tutta la parte relativa all'inci che ora non vedrete però vi dico che il primo ingrediente è l'estratto appunto l'estratto di aloe barbadensis e poi ci sono tutta una serie di estratti vegetali tra cui l'eucalipto la calendula la camomilla il propoli e tanti altri che appunto ne costituiscono un prodotto eccezionale ora vi allora quindi vi faccio vedere quindi allora come sto utilizzando io questi prodotti poi un altro dei prodotti è la crema rigenerante in questo barattolone enorme da 250 ml che una cosa enorme la caratteristica di questo di questo prodotto è che i tre ingredienti principali sono olio di oliva aloe e cera d'api veramente un prodotto straordinario anche questo prodotto molti uso e poi abbiamo il gel di aloe al 99 per cento con allantoina che è veramente un prodotto straordinario veramente non ho mai provato un gel di aloe così denso corposo idratante è veramente un prodotto molto interessante quindi se siete interessate a sapere come sto realizzando con questi soli tre prodotti la mia skin care vi lascio al video dire è che il vasetto della crema rigenerante essendo così grande vedete c'è praticamente è grande quanto trova la mia faccia oddio scusa c'è la spatolina ecco c'è anche la spatolina con cui potete andare a raccogliere il prodotto io sono andata poi a diciamo a travasarlo su un altro contenitore io utilizzo questi contenitori qui che sono molto piccoli da 30 ml che potete acquistare tranquillamente su amazon e che sono molto belli perché hanno anche la loro il loro tappino di copertura io cosa faccio intanto con questa crema che alla mia cara cagnetta piace tanto vado a fare una maschera quindi diciamo per la pelle ora vi faccio vedere com'è la consistenza dunque questo prodotto è un prodotto che si presenta in questo modo vedete tutto è molto giallo e questo è proprio per la presenza appunto non solo dell'olio d'oliva ma anche per la presenza anche di altri oli come l'olio di argan l'olio di rosa moscheta e quindi è una crema che diciamo quando fa freddo ha un'apparenza quasi burrosa ora che fa caldo diciamo è un pochino più morbida ora io ne ho preso un quantitativo che secondo me potrebbe essere sufficiente per andare diciamo a creare una una base per poi appunto lasciarla in posa e lasciarla agire come appunto se fosse una una maschera idratante la faremo la farò agire circa un 10 15 minuti diciamo il tempo anche che la pelle l'assorba chiaramente sarebbe diciamo ideale a questo punto potersi anche andare un po' a distendere perché il fatto di avere appunto la crema e di poterla di poter lasciare che la pelle si possa diciamo distendere anche le rughe i tratti delle rughe poterli andare a distendere è sicuramente qualcosa che favorisce appunto la distensione delle rughe a questo punto prendo un po' di gel di aloe e un po' di intensive spray questo vedete che è una confezione più piccola di quello che vi ho fatto vedere prima perché è una confezione da viaggio da 100 ml poi prendo delle garze di tessuto non tessuto che ho diciamo tramite l'ausilio di un dischetto gli ho dato appunto questa forma a mezzaluna che come vedete è perfetta per andare diciamo a ricreare dei patch e per per il contorno occhi lo li vado vado a prenderne due su questi voi non li vedete ma sono due li appoggio su un un piattino prendo un po' di aloe in questo modo quindi proprio un po' di aloe così ecco e un po' di intensive spray ora questi due patch vado a distribuire molto bene il gel quindi vado a creare una sorta di appunto dei patch per il contorno occhi e poi cercandoli di riuscirli a dividere non so se ci riuscirò che questi adesso si sono ben bene appiccicati aspettate ecco qua ok quindi vedete sono come proprio dei patch contorno occhi che potete andare ad applicare in questa zona e ovviamente con lo stesso sistema potete anche andare a ricreare una maschera una maschera diciamo una maschera per il viso quindi io adesso me ne sto così un pochino aspettando la sensazione chiaramente io questi prodotti li ho tenuti in frigo sia il gel che l'intensive spray e sono molto freschi però il gel di aloe contiene anche mentolo quindi è probabile che sentiate una estrema freschezza perché poi lo state tenendo proprio vicino agli occhi e questo chiaramente per chi ha la pelle più sensibile magari può evitare di mettere il gel ma mettere direttamente solamente l'intensive spray ok ragazzi io aspetto quindi a questo punto di fare agire un po' tutto l'unica cosa che vi voglio dire è se avete delle confezioni come queste queste che praticamente anche delle creme potete utilizzarli per andare a riporre i dischetti questi qua di tessuto non tessuto imbevuti di prodotto e andarli poi praticamente a utilizzare freschi quando vi servono quindi aspetto 10 15 minuti e ci rivediamo tra un pochino a questo punto ragazze il tempo è passato io vado a togliere i patch che come vedete aderiscono perfettamente vado a massaggiare il prodotto in eccedenza e semplicemente appunto aspetto che si assorba perfettamente vado a prendere poi o della carta velina quello che avete voi o anche dei diciamo delle salviette sempre in tessuto non tessuto vado a spruzzare un po' di intensive spray e vado a eliminare la crema la crema che avevo messo sul viso se volete potete anche come dire vedete questo è il giallo della crema se volete potete anche lasciarlo appunto in posa e aspettare poi appunto i minuti e poi fare un massaggio il che secondo me è anche bello perché con questo tipo di crema il massaggio viene proprio viene proprio perfetto allora a questo punto la mia pelle è veramente perfetta scusate una a questo punto riprendo l'intensive spray ho pulito diciamo la l'eccedenza di crema e me lo spruzzo sul viso come se fosse un tonico e vado a massaggiare e ad applicarlo con dei movimenti appunto che vanno a pressare dunque questa skin care io che sto così come la sto diciamo come ve la sto facendo vedere io la sto realizzando sia per la sera che per la notte cioè scusate sia per la mattina che per la notte quindi in realtà ha solamente diciamo piccole differenze però adesso ne parleremo meglio riprendo un po' di gel di aloe e ah no scusate no allora se vi ricordate vi ho parlato un po' di tempo fa di come ho fatto il mio siero casalingo in questa boccettina di vetro io ho messo un po' di intensive spray un po' di gel di aloe e un olio un olio a vostro piacere che può essere dell'olio di argan dell'olio non so di jojoba olio di rosa moschita quello che avete e create un siero ora vi faccio vedere è un siero di cui io vi ho parlato e vi ho fatto anche un articolo è un siero che vedete chiaramente essendo a base di gel di aloe è molto fresco anche questo lo potete tenere in frigo e in questo periodo vi assicuro che tenendo questi prodotti in frigo è assolutamente una diciamo una soluzione vincente perché avete utilizzato un prodotto che vi regala anche una grandissima freschezza inoltre secondo me l'idea dei patch diciamo con le garze di tessuto non tessuto tenute in frigo è veramente qualcosa che è fantastico cioè durante mentre fate colazione vi tenete sui patch e poi li andate a togliere e insomma vi sentirete la pelle estremamente morbida e i tratti anche del viso distesi a questo punto dopo aver applicato il siero quello che io ho chiamato siero riprendo la mia il mio gel di aloe ne applico un pochino sulla mano ecco insomma un quantitativo che ritenete opportuno potete fare anche questo questa operazione direttamente su su un piattino come avevo fatto io per i patch e vado a prendere un po di crema questa qui rigenerante ne prendo a questo punto un quantitativo molto piccolo perché adesso io andrò a creare praticamente la mia crema gel quindi una crema molto leggera idratante che però appunto non mi va ad appesantire diciamo la mia base viso mattutina perché in estate come torno a ripetere non amo molto diciamo applicare prodotti troppo pesanti sul sul viso anche perché poi magari ecco volendosi truccare c'è un po la difficoltà di diciamo di andare a sovrapporre tropporre troppi prodotti quindi io in realtà sto utilizzando solo gel di aloe una crema rigenerante e questo spray intensivo diciamo che mi da mi regala una diciamo una serie di benefici perché avendo tutti questi estratti vegetali io ho scoperto nel tempo durante l'utilizzo di questo di questi tre prodotti che la mia pelle è molto migliorata allora la prima cosa che ho notato che è proprio migliorata in senso generale è l'aspetto delle macchie e della diciamo della del colorito che è diventato più omogeneo ovviamente io in tutto questo periodo sto mettendo il come dire la crema solare quindi sicuramente il fatto di andare a proteggere permette anche che non ci siano un peggioramento delle macchie però io per esempio questa macchia qui e questa qui che erano abbastanza evidenti questa devo dire che come vedete si sta addirittura schierando dall'interno perché io cosa vado a fare questi tre prodotti in realtà così anche diciamo applicati in sinergia mi stanno migliorando tantissimo l'aspetto appunto della pelle un'altra cosa che ho notato è adesso ho preso un po di crema rigenerante ma veramente una puntina la sto andando applicare come contorno occhi una cosa che ho notato è che la pelle è molto migliorata anche dall'aspetto delle come si chiamano dei punti neri brufoletti non ne avevo tanti comunque dei punti neri e soprattutto anche nell'aspetto della pelle mista perché andandosi a formare molti meno punti neri e probabilmente questo è dovuto proprio all'utilizzo dell'intensive spray che ha un'azione antisettica antibatterica e che va appunto anche a ripristina ad avere un'azione lenitiva idratante già da solo di per sé perché vi farò vedere poi negli spezzoni di foto in cui farò vedere l'inci che sono veramente dei prodotti con un'inci straordinario ho scoperto poi per esempio che la crema il gel di aloe contiene all'antoina io non sapevo che cosa fosse onestamente l'antoina e sono andata appunto a diciamo a vedere di che cosa si trattava bene la lantoina in base a diciamo la percentuale che è presente all'interno del prodotto ha diverse funzioni da funzioni semplicemente appunto rigenerati rigeneratrici a funzioni sfoglianti a funzioni antirughe quindi questo in realtà è un prodotto che quando io l'ho definito la prima volta che l'ho applicato è quasi come un siero era veramente così perché in realtà la diciamo unendo aloe questo questa lantoina che poi sono proprio nelle prime due posizioni della diciamo del dell'inci quindi anche l'allantoina e in una percentuale molto elevata proprio vanno in sinergia a lavorare sulla rigenerazione cellulare e quindi questo chiaramente essendo chiaramente un prodotto naturale ci vuole del tempo per vedere gli effetti e dovete essere costanti questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire cioè la costanza è quella che in realtà vi paga ora vado a prendere un altro po di questo crema ma veramente ecco un velo e mi ci vado a la vado ad applicare sulle labbra quindi faccio una sorta di balsamo labbra perché essendo così burrosa così sì così burrosa così idratante chiaramente la posso andare ad applicare anche sulle labbra è avere un'ottima un'ottima diciamo schermatura una cosa vi volevo dire io non sapevo che i prodotti a base di cera d'api fossero così funzionali perché la cera d'api che è un prodotto completamente naturale va a creare una sorta di film sulla pelle cosa fa questo film naturale ripeto che si comporta quasi come se fosse un silicone e adesso vi spiegherò ulteriormente il motivo quando vi parlerò dell'utilizzo di questo prodotto sui capelli va a creare appunto questa sorta di film che trattiene l'idratazione e quindi cosa succede utilizzando questo prodotto in realtà anche se è molto denso molto grasso non avete la sensazione che diciamo la pelle vi trasudi sebo anzi tutt'altro la pelle rimane molto sebo regolata proprio perché l'umidità viene trattenuta all'interno e la pelle non ha quella sensazione come se si stesse seccando troppo e quindi la necessità di creare più sebo quindi in realtà quando noi ci vediamo la pelle magari troppo lucida è perché stiamo utilizzando un detergente troppo aggressivo potrebbe essere una cosa del genere quindi io da quando sto utilizzando questa routine non sto facendo più degli scrap troppo aggressivi e ho notato in linea generale un miglioramento dell'aspetto della pelle nel suo complesso ma anche poi andandolo a diciamo a vedere nel più nel dettaglio ora vi faccio vedere sui capelli come la utilizzo dunque li vado prima di tutto un po' a pettinare perché io ci ho applicato stamattina il minoxidil quindi vado sicuramente a pettinarli e adesso cosa faccio? allora la sera vado a utilizzare scusate l'intensive spray come se fosse una lozione diciamo per i capelli quindi cosa vado a fare? mi vado a ricreare delle righe in questo modo e massaggio in questo modo diciamo la utilizzo anche come se fosse proprio una lozione anticaduta perché la utilizzo in questo modo? perché all'interno ha il rosmarino la salvia lo zenzero il propoli che sono comunque tutti diciamo estratti che hanno una funzione anticaduta il giorno invece per esempio adesso ce l'ho un po' più sul mosso allora in questo momento invece che siamo di mattina vi faccio vedere come lo vado ad applicare semplicemente così un po' sulle lunghezze e vado un pochino a ravvivare eventualmente un po' il mosso poi cosa vado a fare? prendo ancora un po' di gel e ne prendo una piccolissima quantità anche in questo caso anzi un po' di più perché diciamo sui capelli il gel di aloe trova cioè i capelli trovano un grande beneficio con il gel di aloe e anche qui una punta proprio punta di crema ecco un quantitativo che può essere così poi è chiaro in base alla lunghezza dei vostri capelli e anche qui faccio una sorta di crema gel allora in questo caso lo applico proprio sulle lunghezze e cosa ho notato dall'applicazione appunto di questa crema che i capelli sono molto più disciplinati i capelli sono molto più idratati e come vi ripeto il come dire la il la cera d'api scusate la cera d'api funziona proprio come se fossero quasi dei siliconi cioè va a ricreare questo film che tiene il capello morbido ben diciamo disciplinato ma non ma che non si secca e questo del diciamo del diciamo è un qualcosa che succede soprattutto ai capelli ricci o mossi in estate perché si disidratano molto più velocemente ma succede anche ai capelli fini soprattutto se andate in piscina con il cloro con la salsedine ma il sole stesso tende a disidratare e a disidratare i capelli in questo modo noi andiamo a nutrirli andiamo a ravvivare il colore come vedete il colore è subito ravvivato e li andiamo a nutrire e idratare in realtà questo non è un prodotto che va a ungere perché come vi ho spiegato anche prima sulla pelle in realtà la la cera d'api dà un effetto siliconico però non ha quell'effetto disseccante che ha il silicone sintetico al contrario mantiene l'umidità permette che gli agenti idratanti rigeneranti che sono appunto l'olio d'oliva l'aloe l'olio di rosa moschita l'argan vadano a praticamente a nutrire il capello e voi non avrete a fine giornata un capello oleoso ma avrete un capello morbidissimo quindi lo potete applicare giorno dopo giorno se per esempio come me non siete solite lavare i capelli tutti i giorni non abbiate paura perché non non succede assolutamente nulla potete anche poi chiaramente andare un po' a modificare le dosi mettere un pochino più di gel di aloe un pochino di meno di diciamo di crema rigenerante però più o meno diciamo le combinazioni sono queste dunque ragazzi io ho finito con la mia skin care ed air care routine minimalista l'ho voluta chiamare così perché in realtà mi sto approcciando a questa ed ha un po' di tempo in realtà mi sto approcciando a questa nuova filosofia che in realtà mi dà molte più soddisfazioni che utilizzare tanti prodotti diversificati che però in realtà non mi gratificano più di tanto io con questi tre prodotti mi sto trovando bene sono tre prodotti che magari possono costare un pochino di più rispetto a un prodotto più come dire più commerciale diciamo però devo dire che sapendoli utilizzare nella maniera anche diciamo anche in maniera più creativa per esempio con questa crema con la crema rigenerante in realtà oltre a una maschera potete andare anche a fare uno scrub la stessa cosa lo potete fare utilizzando come base il gel d'aloe quindi poi soprattutto per esempio in estate dopo sole il gel d'aloe questo poi è proprio per il corpo in realtà io lo uso per il viso ma va bene è proprio per il corpo lo potete usare come dopo sole per le scottature la crema la crema rigenerante e l'intensive spray quindi sono delle soluzioni in molti uso ma che in realtà hanno molte altre funzioni e magari vi lascerò delle diciamo degli screenshot con diciamo delle no scusate degli screenshot delle slide con appunto le varie applicazioni che hanno che sono molteplici cioè vanno dalle scottature vanno dalle dalla detersione alla a disinfettare diciamo la cute diciamo a brasa o comunque le punture di insetto quindi in estate ma in tutto l'anno avete una gamma di utilizzi tantissimi in inverno per esempio questa è perfetta per le pelli molto secche ma è anche perfetta per esempio per gli spessimenti della pelle per le pelli molto secche per le pelli che sono per le piaghe per esempio di adicubito quindi hanno tantissimi tantissimi utilizzi questa è chiamata la farmacia tascabile perché in realtà questi tre prodotti che adesso io ve li faccio vedere così adesso questa in realtà non è la sua confezione originale però questa è la travel sites questi tre prodotti in realtà sono considerati un po' la farmacia che si può diciamo trasportabile così la possiamo definire allora io oggi vi ho fatto questo breve video in realtà non so se è venuto tanto breve però anche per parlarvi appunto di questo nuovo sistema secondo me di utilizzare questi prodotti che comunque mi sto trovando veramente tanto tanto bene sono contenta credo che continuerò su questa strada perché come ripeto mi piacciono i prodotti mi piace provare tante cose però poi alla fine quando non trovo diciamo non sono completamente ecco non che non trovo non sono completamente soddisfatta invece questi prodotti veramente mi stanno dando tanta soddisfazione e volevo farvi appunto anche voi partecipe di questa di questa mia di queste mie scoperte che sto facendo in questa estate 2020 vedrete molti altri video nei prossimi giorni e quindi rimanete diciamo sintonizzati e ci vediamo presto ciao ragazzi a presto a presto